Ciao a tutte ragazze, benvenute in un nuovo video questa qua sarà la recensione del mascara di Wycon finalmente, che è questo qui, l'Infinite Lashes finalmente sono riuscita a registrare questo video, ho detto adesso ho mai più, sono 35 gradi all'ombra, fa veramente caldissimo e non essendo appunto truccata ho detto adesso è il momento giusto per fare questa recensione, senza perderci in chiacchiere iniziamo subito il pack è fatto in questo modo, tutto nero molto molto bello, con queste scritte fixia se sentite il rumore ovviamente è Lorenzo che sta giocando qua nella stanza dove sono io, e vi faccio vedere anche lo scovolino che è fatto in questo modo, ma ve l'ho fatto vedere in 3000 video, e appunto è questo qua con i tre pallini, è molto nero costa 7,90 euro appunto è di Wycon ma adesso passiamo all'applicazione e ci vediamo dopo e ci vediamo questo qua è soltanto con una passata e ne vado a fare sempre più di una ovviamente così l'effetto diventa veramente wow questo qua è l'effetto con due passate io non ho piegato le ciglia prima e non lo faccio quasi mai e già si può ben vedere la differenza io adesso lo metto anche da quest'altra parte e ci vediamo dopo questo qua è il risultato finale ci ho fatto ancora un'altra passata anche a quest'occhio come vedete il risultato è bello nero mettete anche che non sono truccata ma col trucco magari l'eyeliner una bella sfumatura le sopracciglia fatte fa ovviamente tutto un altro effetto questo prodotto qua per me è super super promosso lo sapete perché lo compro e lo ricompro ormai da tantissimo tempo costa 7,90 euro e per me fa tutto quello che mi serve in un mascara non vi dico se poi si vanno a piegare le ciglia l'effetto è veramente super wow quindi non posso fare altro che promuovervelo e consigliarlo a tutte quante voi niente ragazzi il video è terminato fatemi sapere se anche voi avete promuovato questo mascara e se avete il mio stesso pensiero o abbiamo pareri diversi scrivetemi qua sotto magari qualche altro tipo di mascara low cost che vorreste consigliarmi sarei ben felice di provarlo prossimamente mi raccomando spolliciate questo video e iscrivetevi al mio canale così da restare sempre aggiornate io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao